Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono JSmash Siamo tornati su Spectre of Torment, sono riuscito a dirlo per una volta giusto E direi di proseguire subito, nonostante c'è questo qui Che dovrebbe essere il mio tirapiedi, ma invece lui mi pia per il culo Aspettate un attimo Ok, un po' meglio, si stiamo un po' il microfono Bene, eh, fantoccio, sputa il raspo, dove vuoi che ti spedisca Allora, sono pronto Hmm, allora, partita precedente abbiamo fatto la Torre dell'Orologio e adesso farei la Balena di Ferro Sì, il galo fa un culo Comunque Allora, sì Oh, lì c'è una nuova meccanica a quanto pare Ok, vabbè, l'oscurità incombe Allora No, non c'è niente Qua invece sì che c'è qualcosa Ok Beh Questo remix forse Uh, quindi sposti questa specie di bolla Ok Sembra infrangibile No, ok Questo remix è molto bello Ah, ok Ah, ok Quindi questo lo sposto qui Riprovo, ci riprovo Lal Non è un'anguilla, come cavolo si chiama Eh No, è un'anguilla mi sa Comunque è troppo, è troppo bella Questo è un segreto Beh, staremo noi a scoprirlo Sì Sempre se Ok, non era un segreto Eh Devo trovare un posto dove uccidermi Uccidermi Ok Eh, segreto Ok, prendi Ok, mi uccido Rip per i solidi che abbiamo perso Tanto li recupereremo Però c'era il segreto E i segreti Sono sempre Primi nella mia lista Ok Ah, mio Dio Sei velocissimo Ok Riproviamo Avanti Oissa Ottimo Sì, decisamente era un segreto No, mi piace troppo questo remix Questo remix E oro puro Già la musica di questo stage Era molto bella Oh Ok Forse dovrei riuscire a salire, vero? Sì Do 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 Cioè, la musica di Shovel Knight è sempre bella, poi questo remix, wow, è proprio tosto Ok, allora, qua come facciamo? Allora, molto probabilmente dovrò usare... Ah, ma riesco anche a prenderlo io, ok Ho un po' sottovalutato la gravità della situazione Oh, ho fatto una battuta Gravità, perché qua la gravità è bassa, l'avete capito, vero? Forza, spero di sì, vabbè Ok, uh, stupida mossa Stupida moscia, ok Questi vengono uccisi facilmente Segreto Era ovvio Uh, una trappola volevano farmi Ma io sono troppo forte Anche per le trappole Ok, qua Ottimo Qua facciamo così Qua c'è... è troppo strano Solo per un diamante, tutto questo casino Ok, qua non c'è niente Beh, in effetti... aspetta No, non c'è niente Va bene Come faccio a prenderlo? Excuse-moi Ah, ho capito forse Torniamo indietro Così facciamo respawnare la manta No, non era così Quel diamante lo voglio perché è una questione di principio Ah, e forse c'è un modo tipo... aspetta Che intanto qua Fai così No, come faccio a prenderlo? Boh, non lo so Oh, no, quello mi fa male E lì c'è un segreto Aia Oh Potevo usarlo come piattaforma Ah, ho capito Questa musica è picca E lo è proprio... Madonna mia Ok, quindi Faccio il giro Bolle che scoppiano Pollo Io Ok, qua dobbiamo stare attenti Ok, ottimo Boom E boom Vieni qui Vieni, 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 vieni Eh sì, però non devi colpirmi così Maledetto Ok, saltino Boom 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 E boom Mamma mia Ok, sì Questi qui cadono verso il basso Qua posso passare invece Allora, vediamo Aia Eh, sto cercando Ah, sì che ci sono segreti Ma Dove ho la testa? Uno è qui sopra No? Nessun segreto qui? Troppo strano Magari lo è di qua Ce n'è uno di qua, anzi No, non c'è niente Vabbè Un po' deluso Pensavo che ci fosse un segreto lì Cioè, aveva proprio la faccia della segreto E vabbè Ok, questo qui è il lezzo Magari potrei usare No, modalità di Kronos Anima vagante Qual era già? Falce ragno Falce da lancio Altiglio del terrore Ehm Era questo Specchio dell'ombra Allora Sì Così lo posso attaccare da lontano Yes Sortunatamente ho già perso tutta l'oscurità Perché credo che Debba disattivarla Uh Pessima Ottima ma Mossa per voi Pessima per me Ok Ok Oh no Eh, uccidimi Uccidimi Grazie Mi doveva uccidere Perché c'era Un segreto Tutto per i segreti Addirittura la mia stessa vita Ok Per il momento comunque Non è infattibile Anzi alquanto facile Non facilissimo Non ho mai detto questo Perché Infatti I danni li subiamo Però niente di che Allora Segreto Ah ma era solo un dia Ahà 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 Un super segreto Interessante Ok Dove sono i finiti? Boh Aspè No niente Ah così Così a caso Segreto Non so se sia un segreto o meno Vabbè Fatto sta che ora Questa Questo tizio Rimbalzerà a caso Dappertutto No qua non c'è niente A quanto pare Strano Vabbè Allora si doveva proprio andare di qui Ho capito Che cosa bisogna fare Entro qui C'è ora il piragna Esatto Che per il momento Non posso farci niente Dove solo scrivere I suoi pesci Che spawnano dalla sua bocca Sì è strano Però che ci volete fare? Oh oh Pokémon di seconda generazione Leggendario Io mi riferivo ovviamente a quello Ok È ora di combatterlo Sì con Spectre Knight Non dovrebbe essere così tanto difficile Questo nemico Era difficile con gli altri Perché dovevo Continuare a saltare sopra Oh Questi Ah no è solo vita Wow Pensavo che fossero quelli dorati Che invece in quei casi Mi avrebbero dato soldi Invece no Oh e ho visto il segreto Yes Vediamo Un po' Non so che ci faccia in questo posto uno slime Però vabbè Ok ah sì ho capito Esatto Non l'ho fatto mai prima Però questo era Il momento ideale per iniziare Ok qua bisogna fare Non è per il momento per niente È difficile Ok Oh quello lì sì che stronzo Oh questo è Volontà vero Volontà Sì Ho più salute Ok grazie per i diamanti Anche se i diamanti non Ok questo è un torpedo Uiii Ah Ottimo Qua facciamo così Però qua Ok niente segreti Stavo quasi anche per morire Dettagli Ok qua Facciamo che and- Mandarlo avanti Noi saltiamo Stessa cosa qua Sono s- Esatto Ecco i torpedo Che vanno avanti da soli Ok Questi invece mi fanno male Quindi devo stare attento Segreto GG Ok Ok Ottimo Comunque se ci avete fatto caso L'unica volta che sono- Le uniche volte dove sono morto È perché Ehm Volevo recuperare un segreto indietro Che è pur sempre una morte Questa è vero Però Noi sappiamo che È una morte per una giusta causa Ok Cosa sei tu? Tu sei nuovo E non è- Ok non si può uccidere È un brutto pesce Che non si può uccidere È tipo quello di Di Super Mario Eh come facevo scusa Pardon Ok L'altra mela Grazie Ah Sì che si può uccidere Ah Oh grazie al cielo Ah Aiuto Ottimo Muori Muori Devi morire Ire Ire Tu morirai Ecco Non è ancora morto Però vabbè Ok Allora GG Sono morto Bravo Bravo me Ok Ok comunque siamo quasi Abbiamo quasi raggiunto La La L'ultima zona Stavolta Cioè dato che non ho neanche failato più di tanto Cioè Forse ho anche tempo per un'altra Aia Per un'altra run Cioè un altro livello Ci starebbe Anche perché ci stiamo avvicinando alla fine Perlomeno della storia Poi Tralasciando ovviamente tutti I collezionabili che ci sono Stranamente non ci sono le canzoni da raccogliere Che negli altri giochi c'erano invece Ok Ok tu sei molto fastidioso Un'al Un'al Non un Sì un'alga Vabbè Un'anguilla Ecco E no Non l'ho preso Maledizione Male Maledizione 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 Aia Invicibilità Usala Ok Ehm Deschi della volontà Usalo un'altra volta Ok si Un'alga Un'alga Uno E ho già trovato un bendicante a bordo Credo che sia io Non sono qui per una elemosina Ma per farti una proposta Oggetti di recupero illimitati E un posto come finanziere dell'incantatrice Oh Sarei felice di spendere oro per ottenere altro oro Ma come faccio a sapere che il mio investimento sarà sicuro Devo fidarmi della tua parola I nostri accordi vanno oltre le parole Ecco un assaggio del tuo potere Del suo potere Ok Ho visto che lui ha un pattern nuovi rispetto al solito Ok Cosa sono monete Mi spara monete Ok Cosa sono? Sono pesci palla O qualcosa del genere Vabbè qualcosa che fa male Ok comunque è morto Quindi Non è un problema Mi recupero anche un po' di vita Tanto non serve però dettagli Ottimo Avremo preso tutti i Tutti gli oggetti Perché non ne sono sicuro onestamente Spero di sì Beh Vediamo che cosa ha da dirci E Bene anche venti Oh è giusto ci sono I curio Solo uno Piuma fluttuante Volteggia pu Volteggia Tipo flutui Flutui per un breve tempo Mi sembra interessante Ok Del tipo Oh Sì Mi piace un sacco E posso anche usarlo tante volte insieme Cavolo L'avessi saputo L'avrei potuto usare nell'altro Però ormai Ok quindi Abbiamo anche un sacco di soldi Wow Ehm Allora Vediamo cosa ha da dirci Se ha da dirci qualcosa di interessante Mi avevano detto che c'era una sala per i banchetti Sarebbe questa? È solo una farsa L'unica cosa che si può ordinare qui È una ristrutturazione completa Oh Get wrecked Sono offeso No Scherzo Ok Allora possiamo potenziare solo questo E Potenziamolo Ottimo E direi subito di lanciarci al prossimo Macchina volante Propeller knight Dai va bene Certo che voglio andare Oh Chi è? Oh no Ehm Sono in ritardo? È la riunione dei cavalieri? Possiamo scegliere I nostri strabili antipoteri Io voglio il fulmine Hm Hm Chi è sto qui? Oh avanti aspetta Hai visto la mia frusta Posso avere un elmo? La mia taglia è Large Ok Fuori Subito Ma Esatto Sparisci Ma 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 No Poverino Avevo già preparato le mie mosse di apertura e tutto il resto Era tutto strafico No Povero Buzz Sapete per essere in un ordine di cavalieri malvagi Voi siete davvero pessimi Volevo solo essere l'attrazione principale Non avete ancora visto niente di Buzz Combattimento Ah no Non combattimento Dovremmo preoccuparci delle sbarre per le finestre Sì Concordo Ehm Poverino Ehm Partiamo Sì Ehm Mi dispiace un sacco per Buzz Mi piace Ehm Ehm Simpaticissimo Vabbè Comunque Sono anche Curioso Anche questo remix Ci sono delle cipolle che volano Ci sono delle cipolle che volano Segreto Aha Ok Vado Ehm E' strano E' strano sentire questo remix Quei sacchi di soldi Un sacco di soldi Un sacco di soldi ho perso Aha Ok Sali Qua abbiamo preso tutto Qua abbiamo preso tutto Aia Pensate che c'è un achievement Non subire danno per niente In un livello Ehm Oserei dire Vediamo cosa c'è qui Oltre a tanta grana E poche grane Ah c'è anche C'è anche una carata marcia Beh Contento lui No Questo Facile E abbiamo anche più salute Wow Credo che abbiamo raggiunto La Salute massima Perché quanti sono 4 8 10 Mi sembra Come quella di un boss Mi sembra Ok Quello lì E' fastidioso Oppure è solo No forse è una statua Si è solo una statua Per No Non è solo una statua Ok Non dovrebbe essere Infatti molto difficile Vediamo Segreti nascosti Eccone uno qui Anche se Non so Ah Accidenti Qua dovrò andare Oh attenzione Si Ok Una parte leggermente Aia Come faccio a salire Ah forse ho capito Vai così Esatto E qua ce n'era un altro nascosto Oserei dire Perfetto Perfetto Cioè è colpito Tre volte Ma ci rendiamo conto Come faccio Ah ecco come faccio a salire Ah Oh no Mi hanno Mi hanno preso in giro Mi hanno fregato Ok Ok Oh bomba No buona la bomba Ok Qua sicuramente Mi dimenticherò Qualche Qualche teschio rosso Ok Qua di sicuro Mi dimenticherò Qualche teschio rosso Ok Ah si I tizi Oh mio dio Come li faccio ad infliggere danno Così Aia Ok Siete Siete cattivi Eh Oh E io poi mi chiedo Mi chiedo anche come fare a A A non subire danno Sembra davvero un'impresa Un'impresa Difficilissima Anche forse Anche il primo livello Mi ricordo che non era neanche tanto così facile Beh Ovviamente sarò se sarà il più facile E fra tutti però Sapete com'è Gli achievementi di Shovel Knight Non sono fatti per essere facili Questo è poco ma sicuro Allora Vediamo qua Non c'è niente immagino Esatto Ok Oh questi mi aiutano Forse Ok si ho capito Grazie Ora si Adesso Adesso E vai Non vedo nessun segreto Che figata Tutto riesco a tagliare Le palle di cannone Niente segreti Strano Oh Aia No Non osare farmi questo Aia No Sto precipitando Aiuto Ok 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 Ed è stato un attimo Un po' così Vai Yes Qua c'è un segreto Questo qui era abbastanza facile da vedere Ok Come immaginavo Attenzione Ma sono morto Odio questa parte O le odio un sacco Ok Allora Riproviamoci Aia Non farmi cadere No Ho sbagliato Dovevo andare per di Aia Dovevo andare per di Aia Esatto Ho capito tutto Ok quindi Vai 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 Riprova Ottimo E ora Fatti trasportare E salta Ottimo Oserei dire Ottimo Ok Ora bisogna salire Stando attenti Nel Non farci Troppo male Ma vieni Andiamo nella zona Che Dove non dovevamo andare Ma ci siamo andati Perché siamo troppo Trasgri Ok Forse era meglio Dall'altra parte Che ne dite Ok Verso l'alto Ok Direi che questo Che questo teschio rosso Lo prendo più che volentieri Ok Ottimo Cos'è Ah una mongolfiera Uh E qua Allora Qua si prosegue In effetti Sì Allora Boom Qua c'è un segreto Sì Ottima Aspettate Aia Aia Oh great Oh great Grazie Ok E anche di qua Si poteva andare Lo so Perché qua Si poteva prendere Questo bel diamante Ok Grazie per il boost Qua un po' Ok Cos'era Cos'ho preso Cos'ho Era un curio C'era un teschio rosso Credo di sì Mi sembrava strano Onestamente Non saprei dirvi Ok Ottimo Oh Il vento Mancava il vento Caro amico vento Ora avevo uno Verso l'alto Ah no Senza quelli Verso l'alto Ok Se proprio Insisti Uh Uh Ne ho preso Solo uno Ah Non me lo sarei mai Aspettato Sinceramente Vediamo se riesco Anche a salire Verso l'alto Si Ottimo Non dimentico Niente A quanto pare Oh no Ok No L'abbiamo ucciso Subito Tutto questo Per una mela Ah ecco Mamma mia Ma io Sono Ma come faccio A trovare Sti segreti Mi chiedo Perché sono un Pro Della morte Citazioni Ah da dietro Ah da dietro eh Levitrollarmi Attenzione Ok Non mi sembra Tanto Complicato Oissa Niente Niente vento Strano Onestamente A questo punto Me lo sarei aspettato Ok Boom Boom No No Al contrario Wow Quei sacchi Erano pieni di soldi A quanto pare Sì Quasi mille Anzi Novecento Per se dobbiamo essere Proprio precisi Ah odio Ok Li odio un sacco No io ti odio un sacco Ma proprio Un sacco Un sacco Mi avevi Mi hai spinto Nel moblio Ma non ti rendi conto Di quello che hai fatto Non ti rendi nemmeno conto Di quello che fai Ok E quelli lì Come faccio a prenderli Non posso Quindi Mi dispiace Sacchi pieni di roba Ma non posso Portarvi a casa Uh Al pelo Ok Vai Ok Ottimo E qua c'è un segreto Non era molto segreto Però Ah non è un segreto Però forse è meglio Prendersi Almeno il checkpoint Ok E vabbè Ok Segreto No C'era di là Quindi Poco probabile Che ci sia anche Dall'altra parte Ok Mi sa che abbiamo raggiunto Il boss Si Propeller Propeller Knight Vesti come Uno straccione Allora Sei qui Sei qui Allora Sei qui Sei qui Doveva essere Vabbè Allora sei qui Per unirti All'equipaggio Magnifico Invece Faresti meglio Ad unirti a noi Un'alleanza Di cavalieri D'elite Oh infatti Che cosa è successo Sono in volo Oh no In aerei In aerei Davvero Ok E' figo E' davvero figo Merita tutta la mia Stima Oh Oh no Ho capito Che genere Di livello è Ok Sali Veloce Oh no Ok Dovevo usare La cosa Per salire Che stupido Ok Ho capito Mi piacerà un sacco Questa boss fight Quindi Piuma Piuma Flamigianti Com'era? Piuma fluttuante Ok Si Blah 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 Ok Nemmeno Nemmeno vuoi parlare più Va bene Ok Ottimo Ora ho capito Cosa devo fare Intanto Ah sono qua I soldi Va bene Ok Fai questo pattern Va benissimo Oh Aia Salta Veloce Non vale Tu Tu voli Non è giusto Ok Cambia Ah non posso Va bene Non ancora E avanti Ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio Ok Non ce la faccio Accidenti Non avevo nemmeno più Oscurità Per fare niente Dannazione Ok Vediamo se Stavolta Stavolta Sali 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 Ah non vuoi salire Lezzo Bello Piazzami anche le bombe in faccia Dai No è una cosa leale Mi dicono Ok Ok Vaia Beh almeno sta quasi per morire Non è decisamente un boss difficile Tranne per possiamo dire La La Possi C'è il 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 Oddio Non riesco a parlare E io tanto sto scendendo Tipo Aiuto No comunque Era difficile all'inizio Perché Tutta questa cosa di parkour In combattimento eccetera eccetera Era un po' particolare Ok Oh segreto Cioè segreto Ricordi Cosa succede dopo Cos'è successo anzi Luan Sono Ah è morto O quasi morto Alto là Chi va là Hai segnato il tuo destino Il tuo amico è caduto E la tua stessa vita è persa A meno che A meno che A meno che Non faccia quello che ti ordino Rimanderò la tua morte E ti darò un enorme potere Immagino di non avere scelta Vero Va bene Ti ascolto Mi procurerai un grande esercito I cavalieri di queste terre Si incheneranno davanti a me Li porterai qui E allora Il mio ordine sarà micidiale Se Se questo il prezzo Va bene E così Diventiamo Oh Che figo Che figo Cos'è Allo spirito forse Cos'è Cos'è Errore di salvataggio Si è verificato Un errore nel tentativo Di scrivere Sul file Seleziona Sì per riprovare Ok Riprova Ok Ha salvato Ok Un po' Uno spavento Però vabbè Ok Abbiamo fatto buoni progressi Mancano E' giusto E' giusto C'è un curio Vediamo Vediamo cos'è Verdetto Incalzante A farlo per correre Incontro il nemico Più vicino E colpirlo Ok Facciamo questo Dopodiché parliamo con il tizio E poi direi Episodio concluso Questo episodio è durato Più del solito Cos'è Ok Oh Oh Che figata Quindi posso fare Sì Ma sì proprio Ah E ho capito Quindi va E' tipo Hit Seeking Ovvero va Alla ricerca del nemico Mi piace un sacco Molto figo E Dimmi che è l'ultimo Mi sa che è l'ultimo Mi sa che abbiamo Li abbiamo fatti tutti Tu hai qualcosa da armi? Non ho niente Ok non ho niente Va bene Come al solito Allora Potenziamoci Il nostro Cos'è? Ritmo incalzante No cos'era? Verdetto incalzante Ritmo incalzante Non avrebbe avuto molto senso Però mi usa lo ste C'è lo usa lo stesso Nonostante Non la posso usare Vabbè Oh Con questo assortimento Di succhi Ci sentiremo Come dei veri plebei Come pittoresco Devo mandare qualcuno A prendere la mia riserva privata Ti odio Mi sta molto sul culo Vabbè comunque E' stato un bel episodio Per questo video Quindi direi che è tutto Vi chiede di lasciare un mi piace Commentate Iscrivetevi al mio canale Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati Condividete il video Se vi è piaciuto E quindi noi Ci vediamo al prossimo video Un saluto salato E ciao 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 Ciao